Faremo insieme un breve viaggio nel passato e lo faremo alla ricerca delle radici della modernità. La prima tappa di questo viaggio nel passato ci porta alla periferia di Firenze in una casetta con un poco d'orto attorno. Siamo nel gennaio del 1638. In una cameretta c'è un uomo di 74 anni che è diventato completamente cieco e quest'uomo sta dettando una lettera ad un amico che abita a Venezia, una lettera abbastanza lunga e ad un certo punto c'è una frase, immaginiamo di leggerla insieme. Nella lettera sta scritto questo, nelle mie tenebre non posso dar quiete all'inquieto mio cervello. La firma della lettera, Galileo Galilei, era stato da pochi anni processato e condannato come eretico, aveva dovuto abbiurare a tutte le idee, a tutte le teorie che gli aveva sviluppato durante la sua vita. Cervello inquieto. Ecco il nostro viaggio adesso fa un'altra tappa verso il passato perché dobbiamo tenere conto che alla fine del Cinquecento nascono due cervelli inquieti. uno è Galileo e l'altro è Keplero. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Galileo Galilei, insieme a Giovanni Keplero, è considerato uno dei fondatori della rivoluzione scientifica del XVII secolo. Nato a Pisa nel 1564, Galileo ricevette la prima formazione culturale presso i monaci di Vallombrosa. All'età di 16 anni si iscrisse alla facoltà di medicina dell'Università di Pisa, ma il maturare di nuovi interessi per la filosofia e la matematica lo spinse a dedicarsi a queste discipline. Otto anni dopo ottiene la cattedra di matematica all'Università di Pisa, che mantiene per vent'anni fino al 1592. È in questo periodo che si interessa al movimento dei corpi in caduta. La leggenda dice che per dimostrare ai suoi allievi l'errore di Aristotele, secondo il quale la velocità di caduta di un corpo era proporzionale al suo peso, egli abbia lasciato cadere contemporaneamente due oggetti di peso diverso dalla torre pendente. Nel 1609, mentre Keplero pubblica la sua Nuova Astronomia, che contiene le prime due leggi del moto planetario, Galileo comincia ad interessarsi ad un nuovo strumento costruito in Olanda, il cannocchiale. Negli anni successivi lo scienziato confuta la teoria tolemaica, ritenuta vera nel mondo scientifico e religioso dell'epoca in cui i pianeti ruotano attorno alla Terra. E conferma invece la teoria copernicana, in cui i pianeti ruotano attorno al Sole. L'inquisizione bolla come eretica questa teoria e proibisce formalmente a Galileo di appoggiarla. Il testo De Revoluzionibus Orbium Celestium di Copernico viene messo all'indice. Il disaccordo con l'autorità ecclesiastica per la sua adesione alle tesi copernicane, l'obbligo di avviurare e la condanna ricevuta hanno fatto di Galileo il simbolo della difesa del diritto della scienza a ricercare la verità, rifiutando qualsiasi limitazione da parte delle autorità di qualsiasi tempo. Galileo nasce nei pressi di Pisa nel 1564 e la famiglia lo iscrive alla facoltà di medicina, dovrà curare i corpi. Pochi anni dopo, nel 71, alla periferia di Stoccarda nasce l'altro grande cervello inquieto, Cheplero, che viene inviato in seminario, dovrà diventare un pastore luterano e dovrà curare le anime. Dove persone tra loro completamente diverse, come vedremo nel nostro viaggio. Galileo è un giovane irruente, un pessimo modello di studente, non frequenta le lezioni, abbandona la facoltà di medicina dopo due o tre anni e comincia a studiare come autodidatta la geometria degli antichi, Euclide, Archimede. Cheplero, nel suo seminario, comincia ad imparare teologia e poi viene trasferito in un altro seminario, a Tubinga, dove, accanto ai problemi classici della metafisica e della teologia del suo tempo, che Plero incontra un grande maestro, Maestlin, che lo introduce ai problemi dell'astronomia e della fisica. Negli stessi anni il giovane Galileo incontra di nuovo anche lui la fisica e l'astronomia, ma con un maestro diverso. Si chiamava Buonamici ed era un aristotelico colto, intelligente e raffinato ed era l'unico corso, quello del Buonamici, a medicina che Galileo aveva seguito. Prima andava prevalentemente nelle osterie e nei vari luoghi di piacere a divertirsi. Incontra quindi con Buonamici la fisica, incontra Aristotele, e Galileo conosce l'opera di Aristotele, e incontra Copernico. Quindi i due cervelli inquieti confluiscono su un grande libro, il libro di Copernico. Ioannis Kepler Ovvero Giovanni Keplero, nasce nella cittadina di Weilderstadt, in Germania, nel 1571. Data la sua debole costituzione fisica, Keplero è costretto a lasciare il lavoro per gli studi teologici e umanistici presso il seminario di Tubinga. Qui segue le lezioni di Michael Mestlin, un seguace della teoria astronomica sviluppata da Copernico quasi un secolo prima. Cheplero accoglie così immediatamente l'ipotesi copernicana. Le sue congetture però cominciano ad attirargli le critiche degli elementi più ortodossi della facoltà di teologia, inducendolo ad abbandonare la carriera ecclesiastica e a trasferirsi a Graz per insegnare matematica. Qui pubblica la sua prima opera, il Mysterium Cosmograficum. Nel 1600, grazie all'interessamento dell'astronomo danese Tycho Brahe, Keplero si trasferisce a Praga e diventa suo assistente. L'anno successivo Brahe muore lasciandogli la carica di matematico imperiale e astronomo di corte dell'imperatore Rodolfo II. Eredita così una mole di osservazioni planetarie e procede nell'elaborazione delle sue teorie astronomiche. Pochi anni dopo, infatti, nel trattato Astronomia Nova, enuncia le prime due leggi sul moto planetario. Nei primi decenni del 600 lo colpiscono molte sventure, compreso l'arresto della madre accusata di stregoneria. Keplero prosegue tuttavia le sue ricerche, pubblica la terza delle sue famose leggi e si dedica alla stesura del primo manuale di astronomia basato sulla teoria copernicana. La morte lo coglie a Ratisbona nel 1630 all'età di 58 anni. Sulla sua lapide si legge l'epigrafe Il mio spirito ha misurato il cielo, ora misura la profondità della terra. Il libro di Copernico, il grande trattato sul De Revoluzionibus Orbium Celestium, era stato pubblicato nel 1543. Né Galileo né Keplero erano ancora nati. E qui va fatta una piccola parentesi sul libro di Copernico. In questa parentesi dobbiamo ricostruire un poco qual era l'atteggiamento dei filosofi e degli scienziati attorno alla metà del Cinquecento. C'era la cosiddetta astronomia matematica che era fiorente. L'astronomia matematica doveva, come si scriveva allora, salvare i fenomeni, cioè introdurre dei modelli geometrici dell'ordine dei pianeti e delle stelle per poter fare previsioni. Accanto agli astronomi matematici c'erano quelli che allora chiamavano naturales, che erano più portati alla filosofia e alla cosmologia. Mentre i matematici dovevano salvare i fenomeni, i naturales volevano descrivere la realtà. avevano dei punti in comune. I corpi celesti sono corpi quasi divini, perfetti, immutabili e si muovono percorrendo circonferenze perfette, sempre con la stessa velocità. E questo però sollevava un problema per entrambi, il moto dei pianeti. Se infatti vi capitasse, avreste voglia, di seguire per esempio il moto di Marte, seguendolo notte per notte, lungo le settimane e i mesi, non vedete affatto un'orbita circolare sul fondo delle stelle fisse. Vedete un'orbita fatta più o meno così. C'è un moto retrogrado, il pianeta torna indietro, poi ricomincia a muoversi, poi ritorna indietro, poi ricomincia a muoversi e la velocità cambia da notte a notte. Come risolvere questo problema? Copernico lo risolve cercando di fondere insieme la pulsione originale degli astronomi matematici salvare i fenomeni e dall'altra parte descrivere il mondo così com'è, la realtà. L'idea fondamentale di Copernico è questa, la matematica conosce la realtà, conosce l'universo. Naturalmente ha il problema di come descrivere il moto dei pianeti, che non sono circonferenze perfette. e allora che cosa introduce? Introduce un insieme di cerchi e questo insieme di cerchi è una cosa che egli è eredita già dal passato, non è che li ha inventati lui. Immaginate allora che questo sia un pianeta. Questo pianeta percorre una piccola circonferenza con velocità costante. Il centro di questa circonferenza si muove su un'altra circonferenza. Queste circonferenze si chiamavano epicicli. Il centro di questa seconda circonferenza a sua volta si muove lungo un cerchio di maggiori dimensioni. se combiniamo insieme tutti questi movimenti viene fuori proprio l'orbita strana che i pianeti percorrono in cielo, quella che si vede ad occhio nudo. Il libro di Copernico è un librone. Il primo sesto del libro non contiene calcoli matematici, non contiene tavole astronomiche, quindi è di agevole lettura. Il resto del libro è estremamente difficile, estremamente complicato. Gli storici della scienza hanno fatto una valutazione che riguarda il numero delle persone che nei cento anni dopo la pubblicazione del Trattato di Copernico lo hanno davvero letto tutto e capito. sapete quanti sono? Nove o dieci in cento anni. Ciò nonostante sappiamo benissimo della storia che c'era un dibattito molto acceso sulla validità o meno del sistema copernicano perché molte persone erano a conoscenza di ciò che era contenuto nella prima parte del grande trattato del 1543 e c'erano quelli favorevoli a Copernico e quelli contrari che però non discutevano di teoremi geometrici. di che cosa discutevano? Immaginate le discussioni che potevano esserci alla fine del Cinquecento i primi anni del Seicento su che cosa ci si concentrava? Se Copernico ha ragione la Terra si muove attorno al Sole e impiega un anno a fare tutto il giro il giro è molto lungo a che velocità deve andare la Terra per muoversi in un anno e ritornare al punto di partenza? Più di centomila chilometri all'ora forse che ce ne accorgiamo noi le montagne gli alberi le torri le case siamo fermi quindi rispetto alle sensate esperienze quelle che possiamo avere quotidianamente a livello di senso comune il sistema di Copernico è falso. In secondo luogo immaginate che Copernico abbia ragione anche quando dice che la Terra ha dei movimenti attorno a se stessa allora immaginate di essere su una torre e di lasciar cadere a terra un sasso se Copernico ha ragione mentre il sasso cade diciamo che impiega tre secondi arrivare al suolo la Terra sta girando e quindi anche la torre voi siete qui anche la torre si sposta mentre il sasso cade a che distanza dalla torre il sasso arriva al suolo in quei tre secondi molte decine di metri eppure se lasciate cadere il sasso il sasso cade esattamente al piede della torre quindi l'ipotesi di Copernico non è realistica come vedete le discussioni ruotavano attorno a concezioni del moto che erano diffuse sia nel senso comune e lo sono ancora oggi purtroppo sia nell'ambito della fisica che sia Keplero sia Galileo imparano nei loro primi studi universitari